Il tema è la visita e si riaggancia un po' a quello che è il programma diocesano di quest'anno che prevede una serie di visite pastorali all'interno delle comunità parrocchiali e che tende a privilegiare gli incontri e le relazioni. Abbiamo delle novità, non dieci quadri ma bensì dodici, nell'ormai collaudato percorso all'interno del Parco Urbano di Misericordia, uno scenario suggestivo e naturale che ci accoglie, ci ha sempre accolto ormai da 22 anni, il nostro è un lavoro fatto da soci volontari, 12 scene, abbiamo complessivamente più di 200 soci che ci danno una mano, tra figuranti, guide, i curatori dell'evento e quant'altro, una macchina che si mette in moto e che è già pronta. Il 26, 29 e 30 dicembre, 5 e 6 gennaio, dalle 18 alle 21. Il tutto si svolge appunto in questo scenario particolare, illuminato da fiaccole, con sottofondo musicale, le scene vengono illustrate dalle guide che rendono viva la Bibbia che noi rappresentiamo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.